Benvenuti nel mondo degli orologi Sektor. Sektor è un marchio italiano di orologi che ha fatto della qualità e dell'innovazione i suoi due pilastri fondamentali. Fondata nel 1973 con atto notarile a Napoli, l'azienda ha saputo conquistare un posto di rilievo nel mondo dell'orologeria grazie alla sua capacità di unire design innovativo e tecnologia all'avanguardia. Grazie a una vasta gamma di orologi, dalle collezioni sportive a quelle più eleganti, Sektor è in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente, offrendo prodotti che si distinguono per la loro raffinatezza, la loro precisione e la loro durata nel tempo. Ma Sektor non è solo un marchio di orologi, è anche un marchio di moda. Infatti, il brand è stato uno dei primi a introdurre il concetto di orologio moda, un orologio che non è solo uno strumento per misurare il tempo, ma anche un accessorio di moda. Questo ha permesso a Sektor di conquistare un pubblico ancora più vasto, composto non solo da appassionati di orologi, ma anche da persone attente al proprio stile e alla propria immagine. Sektor ha sempre puntato sulla ricerca e lo sviluppo di nuove forme e nuovi materiali, per creare orologi che siano non solo funzionali, ma anche belli da vedere. Le linee pulite e moderne dei modelli Sektor sono la sintesi perfetta di eleganza e tecnologia. Ma il design non sarebbe nulla senza una tecnologia all'avanguardia. Sektor ha sempre investito molto nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie, per creare orologi sempre più precisi e affidabili. Dai movimenti al quarzo alle complicazioni più complesse, Sektor ha saputo innovare costantemente per offrire ai propri clienti orologi di altissima qualità. E infine, la qualità dei materiali. Sektor utilizza solo materiali di altissima qualità per la produzione dei propri orologi, garantendo così la massima resistenza e durata nel tempo. Acciaio, titanio, vetro zaffiro e pelle sono solo alcuni degli elementi che compongono gli orologi Sektor, frutto di una ricerca costante per la selezione dei migliori materiali disponibili sul mercato. Grazie a tutti! Grazie a tutti!